The Blessed Madonna, merci, fiturigiano, Jacob Lask, bentornati, bentornati, 8 e 32 minuti, eccoci qui sempre su Crystal Radio, FM 96.2, Dab Plus e anche il sito internet, la app per iOS Android e anche ovviamente su Milano News dove ci state guardando in questo istante, ben ritrovati, bentornati a Good Morning Milano, sono le 8 e 33 minuti in questo istante, ultimo blocco della nostra trasmissione, ultima mezz'ora della nostra trasmissione e è la mezz'ora dell'ospite, come sapete benissimo e come sapete altrettanto bene se ci seguite, il martedì è il momento di Walter Cherubini, presidente consulta periferie Milano, buongiorno Walter, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buongiorno Walter, scusa non ti avevo aperto il microfono, dicevi? Buongiorno a tutti, ben ritrovati, colpa mia, colpa mia, non avevo aperto il microfono, scusatemi, chiedo Venia o chiediamo anche ad Avenia magari di venire in ospite, mamma mia questa è bruttissima, oggi siamo stanchi Walter, te lo dico, non so perché anche nonostante sia solo martedì e non lunedì, lunedì di solito il giorno è, siamo un po' in bambini. E sarà questo ottobre caldo, vero? Ecco, l'Octoberfest qua, l'Octoberfest, saremo un pochettino altro. Può essere, può essere, caldo è invece sempre, e per fortuna che lo è, il tema delle periferie, perché insomma qui tutti che ne parlano, tutti che fanno grandi progetti ma poi ci si ne dimentica spessissimo e invece noi cerchiamo di non dimenticarceli grazie appunto alla consulta periferie Milano. Quali sono un po' diciamo i temi caldi appunto sulla periferia milanese o appunto sulla periferia in questo momento da continuare a battere diciamo? Sì, diciamo che i temi della periferia ci sono sempre, il problema è come affrontarli. Allora un'iniziativa sicuramente interessante in proposito è la quarta conferenza nazionale sulle periferie urbane che si svolgerà il prossimo venerdì a partire dalle ore 10 nelle sedi di Bergamo e Brescia promossa da Fondazione Bracco, quarta conferenza nazionale che è il seguito della conferenza nazionale che si svolse a Milano la prima conferenza dopodiché a Palermo, successivamente a Genova e adesso alle capitali della cultura Bergamo Brescia in questa occasione. Che cosa ti auspichi che possa venire fuori da questo convegno, da questo momento importante? Uno sguardo diverso sull'approccio del tema delle periferie, cioè noi le guardiamo sempre in termini di problema e alla fine cosa succede? Che rincorriamo i problemi, i problemi sono all'incirca sempre più veloci di noi e quindi non vengono mai raggiunti. Una corsa all'emergenza che però ti percebe. Questo è il dato vero e anche nel clima sociale complessivo delle grandi città ma non solo c'è proprio uno sfrangiamento e anche un rigurgito di violenza molto veramente preoccupante da un certo punto di vista. Non che 40 anni fa non ci fossero dei rigurgiti di violenza, però questo non è che ci possa consolare. Allora c'è un tema esattamente strutturale che vuol dire il governo del territorio e se noi riprendiamo il tema delle periferie inteso le periferie urbane e quindi quello delle grandi città di una metropoli seppur piccola per esempio come Milano, noi abbiamo, ma lo vediamo anche con i fatti turistici, cioè c'è un addensamento nel centro in quello che è il 10% del territorio, dopodiché la rimanente parte del territorio rimane un pochettino pressapochista. Sì c'è qualcosa in più ma non viene e non c'è un elemento di governo che si occupi prioritariamente di periferie, cioè c'è un elemento per esempio a Milano che si occupa prioritariamente di turismo ed è una cosa sicuramente da fare e quindi vengono anche investiti milioni di euro in comunicazione, in conoscenza. Sul territorio della periferia rasentiamo lo zero, cioè stiamo parlando di qualche decina di migliaia di euro. ecco questo è il tema e c'è un problema strutturale, cioè quello che non si conosce nemmeno come la periferia e quindi emergono o la casistica della cronaca nera, c'è il boschetto della droga di Rogoredo, oppure siccome a Milano c'è di tutto, di più, non è che non ci sia il positivo, anzi ce n'è a Bizzeffe e allora a seconda dei periodi magari estivi, anche i giornali cominciano a parlare un po' di quegli aspetti ludici, bucolici, allora c'è il borgo tal dei tali piuttosto che... ecco ma questo qui è lasciato proprio un po' un effetto della narrazione. I giornali fanno anche un'altra cosa molto spesso che so Valtri che a te poti far venire un po' la trebisonda, perché spesso i giornali parlano di quando si porta in periferia qualcosa, no? Cioè portiamo la cultura in periferia, portiamo appunto, ma anche semplicemente l'animazione in periferia, portiamo la vita in periferia se va quasi, sono quasi che vengono a liberarle con il defibrillatore, quando invece tu ci insegni e sul sito della consulta si può trovare tanto di questo, le periferie sono più che vive, ho sbaglio? Su questo non c'è alcun dubbio, il problema è che non sono governate, cioè sono tutti fatti a sé, frastagliati e chiaramente rispetto al centro della città che è molto più strutturato ed anche molto più seguito, nell'ordine delle cose, non è un problema di ricchi, poveri, questo e quest'altro, purtroppo c'è una mentalità, ma anche nell'amministrazione spesso, che è centrocentrica. Invece i residenti non sono nel centro, sono esattamente da tutt'altra parte e la stragrande maggioranza, oltre il 60%, vivono esattamente nel territorio periferico. Allora se, per esempio, l'amministrazione comunale è un'amministrazione che si vuole interessare di tutta quanta la città e deve partire da lì, non arrivare lì, che è proprio un paradigma diverso. Da dove parti a vedere la città? Parto da Piazza Duomo e scendo. È chiaro che Piazza Duomo e scendo, siccome il centro è piccolissimo da un certo punto di vista, fai anche la svelta. Dopodiché, quando cominci ad andare in periferia, che ricordiamolo, la periferia è la città, che sarà o non sarà. Non perché lo dico io, l'ha detto tra gli altri, Renzo Piano, che forse ha una dimestichezza maggiore in termini urbanistici, divisione mondiale, eccetera. Noi ci occupiamo delle periferie di Milano ogni tanto con qualche variante anche europea, significativa, dobbiamo dire, per quella realtà piccola che siamo noi. No, sicuramente Renzo Piano ne sa. Sicuramente è uno che ha cercato, ci ha messo anche il suo stipendio da senatore, e quindi la periferia, ma è chiaro che la periferia deve diventare un elemento centrale, non un elemento di riferimento per dire, ecco ci sono le periferie, non funzionano. Come si fa a farle funzionare? Per farle funzionare ci vuole esattamente una struttura organizzata, amministrativa. Una volta che le tue le periferie sono i vecchi comuni che furono aggregati cento anni fa, allora avevano un sindaco, avevano un'amministrazione. Qual era la loro priorità? Quel posto lì, la periferia era la priorità. Come è strutturata l'amministrazione comunale, tanto per rivenere sull'amministrazione comunale, ma non è l'unica cosa, l'amministrazione comunale è strutturata che sta a Palazzo Marino in centro e quindi guarda prioritariamente quello che è il centro. Ebbene, e allora ne ripariamo fa pochissimo, sempre qui con Balta Carubini di Consulta Periferie Milano. Alan Sorrenti, figli delle stelle, 1977. Oggi a Nox, Alan Sorrenti. Eh sì, sì, oggi mi sono un attimo così... Ma abbiamo pezzi storici della musica italiana che avevano sempre ascoltati e sempre qui su Cristal Radio. Con Balta Carubini stiamo parlando appunto di periferie. So che avevi una domanda, Lorenzo. Stiamo parlando di periferie e fuori onda stiamo parlando anche di Olimpiadi, perché è notizia di oggi, ma poi ne parleremo in maniera più approfondita domani, che ci sono addirittura, siamo in anticipo addirittura su alcuni lavori al Villaggio Olimpico e questa occasione delle Olimpiadi, come la si può vedere in ottica appunto di rilancio delle periferie? Cioè le periferie possono trarre qualche tipo di spunto dall'attenzione che ci sarà durante le Olimpiadi, durante i giochi invernali? Ma può essere sicuramente un'occasione per focalizzare il tema delle infrastrutture dedicate alla pratica sportiva. Perché ci sono le Olimpiadi, avranno una loro strada particolare, che sono delle Olimpiadi della Neve, eccetera, con Cortina. Noi possiamo vedere questa vicenda come si può riflettere su una visione dello sport a Milano, la visione delle infrastrutture. Perché poi si parla sempre dello sport di base, ecco, come si fa a assicurare che lo sport di base possa essere praticato, anche in una maniera, diciamo così, agonistica. Il taglio che vorrei sottolineare è quello. Noi abbiamo, tra società dedicate alla pallavolo e alla pallacanestro, circa 90 società. Circa 90 società che hanno le loro sedi e praticano i loro punti di riferimento nel territorio periferico, anche perché è difficile avere delle infrastrutture in centro. E sono dislocate un po' nelle periferie. Però sono tutte, quindi stiamo parlando di 15.000 giovani atleti. Non stiamo parlando della Serie A, cose di questo genere. Stiamo parlando di giovani che vanno dai 12, 13, 17 anni, che però fanno agonistica, hanno bisogno anche di strutture adeguate. Allora, per esempio, il Comune di Milano si è posto nell'ottica di utilizzare le palestre, non solamente per le scuole, le palestre scolastiche, non solamente per le scuole, ma anche per la cittadinanza. Si stanno costruendo nuove scuole. A Milano ne sono state costruite almeno una decina e un altro buon numero verranno costruite in sostituzione di altre. E alla scuola si affianca anche la costruzione della palestra. Ma questa palestra è una palestra che poi può diventare anche un piccolo impianto sportivo oppure no? Allora, c'è un piccolo problema, diciamo così, burocratico, di misure, di misure dei campi, nel senso che i volumi delle palestre siano molto ampi. Dopodiché, quello che è dedicato allo spazio di gioco è normalmente, diciamo così, fa riferimento all'utilizzo ludico-scolastico. Cosa vuol dire? Che magari per un metro, per un soffitto più basso di 30 centimetri su un'altezza di 7-8 metri, quindi stiamo parlando proprio di inezze, ma siccome non si ha l'idea che quelle palestre possano essere utilizzate anche dall'agonismo e quindi da questi 15.000 giovani atleti, tra l'altro la pallavolo, i due terzi, è praticata da ragazze, teniamo anche in considerazione questo, noi ci mangiamo la possibilità di avere dei piccoli impianti sportivi fruibili. ecco che allora una regia che abbia sicuramente dei riferimenti locali per capire ma la scuola dove si fa, dove non si fa, ma questo c'è già in progettazione, ci vuole esattamente questa visione sistemica in maniera tale che faccio una cosa ma può servire anche a quell'altro. Questo è il problema, superare la frammentazione, la settorialità. La competenza, è giusto avere una competenza, ma deve essere anche vista all'interno di un sistema, altrimenti io faccio la mia cosa, poi serve o non serve, ma non lo sappiamo. Ecco allora questo è il tema, le palestre devono essere costruite e basta rispettare alcuni piccoli accorgimenti dal punto di vista dei volumi, delle grandezze, proprio in vista dell'utilizzo che potranno farne tutti questi. Per esempio, è solamente una... Ricordo uno speciale che mi invitò a recuperare di Focus Periferia, se non sbaglio, al centro pavesi, con la FIPAV, in cui si parlava proprio di questo. Circa un annetto fa, però... Scusa è stata, bravissima, scusate abbiamo parlato proprio in FIPAV. Siamo quasi in conclusione, ma so che c'è un importante evento che è il Foto Festival che, per fortuna, potrebbe animare e può animare le periferie della nostra città, giusto? Allora, il diciottesimo Foto Festival è un'iniziativa, diciamo, creativa e anche di immagine. Si sviluppa fino al 31 di ottobre. Ci sono 100 luoghi, anche fuori Milano, ma sono costellati Milano e quindi vi invitiamo ad andare a vedere sul sito del Foto Festival tutti i luoghi che ci sono, perché sicuramente è un modo di apprezzare il valore di tantissimi fotografi, ma che fotografano anche molto spesso la realtà. Quindi è un'occasione un po' per fare un piccolo bagno di realtà. Nello stesso tempo di valorizzare questo tipo di possibilità di espressione. Altrimenti rimaniamo un pochettino nell'anonimato, ma soprattutto non utilizziamo delle opportunità che ci sono. Il problema della città e anche di noi milanesi è quello di conoscere innanzitutto quelle che sono le opportunità e su questo il Comune ha un importantissimo ruolo di promozione di quello che avviene nelle periferie di Milano. Grazie mille allora Walter Cherubini. Grazie a voi. Ci ritroviamo martedì prossimo sempre con la consulta Periferie Milano. Ricordiamo il sito? No, periferiemilano.com. Periferiemilano.com. Interessante è anche invece il sito Periferie Artmi, dove troviamo tutto quello che è iniziativa. Mentre nel prossimo 20-22 di ottobre ci sarà la giornata Periferie Artmi verso diciamo così il 17-18 potrete vedere anche sul sito Periferie Artmi. Esattamente. Perfetto, allora grazie mille davvero a Walter Cherubini. Lo ritroviamo qui martedì prossimo. Noi continuiamo con un po' di musica e poi ci salutiamo a fra poco, ok? A fra poco. Grazie mille.